Il prossimo verso è stato ispirato dalla morte di Alessandro Stemrofus, Alexis, ammazzato dalla polizia il 6 dicembre del 2008 nel quartiere dell'Affittura di Zerarchia, perché è successo che in casa dei primi greci, in questo nuovo faccio, ha avuto per se stessi i partiti eroi. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!